ciao da francesco di portierecalcio.it in questo video ti presento il mio amato in questo caso speed contact super grip plus h n uno dei migliori guanti in assoluto degli ultimi anni che abbiamo venduto su portierecalcio.it sto indossando la 9 ma potrei tranquillamente indossare anche la 8 e mezzo la uso la indosso per una questione di comodità e anche perché è legato al al calore al momento in cui registro il video sistema di chiusura dual fix system è lo stesso del modello hyperact non abbiamo novità sostanziali se non grafiche rispetto al modello della edizione precedente più una piccola cosa che vedremo tra poco lattici super grip plus inutile dire uno dei migliori lattici in assoluto tanto lattice anche sul pollice che nonostante questo ha un'ottima mobilità taglio h n half negative ben conosciamo lattice che circonda parzialmente la parte anteriore di indice e mignolo come vediamo ci sono dei piccoli intagli nel lattice chiamati 3d flex questi aiutano un po a muovere il dito all'interno del guanto la rebound zone sul dorso e rivista rispetto a quella del hyperact così come la grafica ma nella sostanza come detto il guanto non cambia struttura poi del dorso in air prene che ne prende leggermente traforato quindi sono già arrivato alla conclusione sugli aspetti tecnici del guanto è per noi di portiere calcio da anni come detto all'inizio del video uno dei guanti migliori in assoluto una garanzia di qualità di durabilità di prestazioni a cui si affiancato in questa stagione anche il fingers around sempre super grip plus come detto anche nel suo video le differenze sono tecnicamente legate proprio la costruzione del del taglio delle dita più mobilità sul super grip h n e più lattice e quindi maggior superficie di presa di presa sul fingers around